Siamo Adriano e Cesare Grazie mille per ascoltarci, grazie a voi Grazie a voi Per noi che andate all'Istonia riscrivono ogni anno Perciò veramente grazie a tutti i studenti che ci ha fatto arrivare questa You love me Ma che cazzo è bruci? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.